Sala consigliare del Comune di Avezzano, gremitissima di gente per la presentazione del nuovo romanzo della scrittura avezzanese Francesco Proia sulla storia della reliquia di Manopello, l'incredibile viaggio della più importante reliquia della cristianità. Su questo tema, interessante ed inedito, si intreccia la trama del nuovo romanzo che fa rivivere l'avventroso ed emozionante viaggio che portò in Abruzzo la reliquia, oggi conservata a Manopello in seguito al Sacco di Roma del 1527. Presente l'autore, visibilmente emozionato per l'affetto che gli hanno riservato decine e decine di amici e conoscenti provenienti anche da altri centri della Marsica, ha fatto ogni onore di casa l'assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, ha moderato i lavori il giornalista Pietro Guida. Il libro si sviluppa su due piani paralleli, uno storico ambientato nel 1527 in cui i protagonisti faranno di tutto per portare in salvo la Veronica della furia dei Lanzicanecchi mentre in quella odierna, ambientata ai giorni d'oggi, i protagonisti dovranno far luce sulle inspiegabili sparizioni delle reliquie conservate a Tagliacozzo ed a Manopello, i due paesi notoriamente più devoti al culto del volto santo. Inizia così un viaggio a ritroso nel tempo che ci farà capire come e perché la Veronica dalla Basilica di San Pietro sia finita a Manopello, passando proprio per Tagliacozzo. Nel corso della presentazione è stato anche proiettato il book trailer d'autore realizzato da Vittoriano Palerma, giovane e talentuoso videomaker marsicano. Questo sulla storia del volto santo è il quarto romanzo di Francesco Proia. Lo scrittore avezzanese ha sempre particolarmente stato attento alla valorizzazione dell'Abruzzo che incentra tutti i suoi romanzi su arte, storia e cultura della propria gente. Già in polvere di lago, Proia aveva voluto riaccendere i riflettori sulla titanica impresa del prosciugamento del Fuscino e sulla gloriosa storia della città di Alba Fucens. Nel principe del lago, seguito del primo, l'autore avezzanese aveva scoperto le tracce del viaggio di Leonardo da Vinci in Abruzzo e tutti gli studi che vedono il genio toscano dietro i progetti del prosciugamento del Fuscino, oltre a scavare tra i misteri che avvolgono la potente famiglia Torlonia, ad oggi proprietaria della più grande collezione privata di opere d'arte al mondo. Il libro della follia, invece, è un thriller ambientato all'Aquila, nell'ex ospedale psichiatrico di Colemaggio, nel 1956, anno della nevicata del secolo. Ora, l'intervista con l'autore e con l'assessore alla cultura. Allora, incontriamo ancora Francesco Proia per la presentazione di un nuovo lavoro. Mentre salivo, ho sentito una signora, dicevo, ogni due anni uno, quindi questo è il quarto. Finché ci sarà modo di scrivere e di avere un po' di idee in testa, andiamo avanti. Sei partito dalla storia del territorio, se vogliamo. Poi sei passato al thriller, adesso con il Volto Santo. Che cosa vuoi dare alla gente con questo nuovo messaggio? Io voglio riscoprire le storie di Abruzzo, che fino ad adesso erano state un po' dimenticate. Il Volto Santo è una storia incredibile, che fino ad ora nessuno aveva mai rispolverato, questa storia così, sia emotiva a livello religioso, ma anche e soprattutto a livello storico. Perché nessuno aveva messo mai in collegamento dal sacco di Roma nel 1527, che la reliquia era stata portata tramite Tagliacozzo, era stata portata fino a Manopello negli Abruzzi. Diciamo che, insomma, sei sempre nell'Abruzzo. Cioè, anche questo riguarda l'Abruzzo. Il tuo scopo principale, lo hai sempre detto, è quello di valorizzare ciò che interessa l'Abruzzo. Beh, abbiamo delle storie che non sono seconda a nessuno. Panorami mozzafiato, che abbiamo visto, continuano a girare e a dare sfondi, location d'eccezione a tutte le migliori pubblicità del mondo e film fiction del mondo. Saremmo pazzi a non voler raccontare prima le nostre storie. Finché ci sarà modo di raccontare le nostre storie, le predirigerò. Per quanto riguarda questo ultimo lavoro, come mai hai pensato a Manopello, a questo, al Volto Santo? È stata una casualità. Un frate che mi ha contattato, che sta scrivendo un'enciclopedia dei conventi d'Abruzzo, i conventi francescani, mi raccontò questa storia del Volto Santo, che io non avevo mai sentito e me ne vergognavo, perché effettivamente è una storia così incredibile e non l'avevo mai sentita. E lì per lì pensai che fosse un po' una montatura un po' esagerata. Quando poi mi sono messo sulle tracce e ho scoperto che tutto quello che c'era era veramente, era reale e c'erano delle situazioni di errore storiche che nessuno aveva portato all'attenzione del grande pubblico, ho pensato di bene di dedicargli un romanzo. Un po' la sintesi di quello che hai scritto e del messaggio e dei sentimenti che hai voluto trasmettere. La storia è su due piani. Quindi c'è una storia moderna in cui spariscono le reliquie del Volto Santo, sia di Tagliacozzo che di Manoppello. E il professor Grandi, che è il protagonista da ormai questi tre o quattro romanzi, viene incaricato, lui nonostante è una persona agnostica, viene incaricato dal Vaticano di ritrovare queste due reliquie. Nel frattempo c'è una storia parallela che viaggia di pari passo con quella principale che ci fa scoprire come il Volto Santo nel 1527, dopo il sacco di Roma, si è arrivato a Manoppello. Tramite l'intreccio di queste due storie, una odierna e una medievale, riusciamo a scoprire di più sulla reliquia ma anche molto di più sul nostro territorio, sull'Abruzzo e su quello che nasconde questa reliquia. L'attualità di questa reliquia proprio qual è? Noi la conosciamo pochissimo, ma in realtà Manoppello è meta di visitatori. Ogni giorno arrivano pullman e pullman, soprattutto dalla Germania, perché i più grandi studiosi del Volto Santo sono tedeschi. Ci sono documentari in lingua tedesca, ci sono trasmissioni in lingua tedesca, sembra che solo noi non ci siamo ancora accorti e questa è la nuova sindone. C'è qualche messaggio che lega questi quattro tuoi lavori? Diciamo che tre sono legati dagli stessi personaggi, quello con le magie è un po' diverso, però comunque lo sfondo è sempre l'Abruzzo, le storie dell'Abruzzo e la storia della nostra fantastica regione a cui sono particolarmente legato. Anche se non sappiamo cosa succederà con questo ultimo lavoro, quale ti dà più soddisfazione? Ma a questo tanta, me ne ha dato tanta, polvere di lago, l'esordio è stato incredibile, però questo veramente dà tanta soddisfazione perché riesce a legare il sacro e il profano in maniera costruttiva, ma è blasfema, anzi fa venire dei dubbi a chi è troppo credente e dei dubbi a chi è poco credente. Quindi cerco di viaggiare sul filo del rasoio e mettere un po' per orare l'una e l'altra causa. Allora se si parla di cultura, in questo caso la rappresentazione del libro, non possiamo che non sentire il parere dell'assessore della cultura di Stefano. Non so se hai avuto modo di leggere quest'ultimo lavoro di Proia, però hai avuto modo di farlo con gli altri libri e con gli altri lavori? Questo ultimo lavoro non l'ho letto ma lo leggerò con l'attenzione che merita perché ho letto gli altri libri, tre libri di Francesco che è un amico e sono tre libri che oltre che ad avermi lasciato tanto, credo abbiano lasciato tanto alla città di Avezzano e all'intero territorio marzicano perché sono libri che in qualche modo raccontano la nostra terra, lo fanno con una chiave moderna, una spy story nel caso del primo libro, il secondo che parla del manicomio di Colle Maggio comunque a Cegna la nostra terra e il terzo parla del principe Torlonia, il principe del lago e lo fanno anche con una veste di promozione territoriale. Chi legge il libro ha voglia poi di venire a frequentare i posti narrati nei libri e quindi dobbiamo dire grazie a Francesco anche perché spinge tante persone a voler frequentare la nostra terra che è una terra comunque bella, affascinante e che merita di essere visitata. Lui spesso mi scrive sui canali social, su Facebook o su WhatsApp per stimolare anche la mia attenzione rispetto ad alcuni temi fondamentali. Non che la mia attenzione sia bassa ma su questi temi ci dobbiamo lavorare di più perché la promozione del nostro territorio è un'attività che dobbiamo fare con tutte le nostre forze visto che nel 2019 si può, non dico vivere di turismo in una città che ha difficoltà ad intercettare il turismo ma quantomeno si può aumentare il flusso perché il prosciugamento è qualcosa che affascina tutto tutti abbiamo dei reperti archeologici bellissimi, cito i cunicoli dell'imperatore Claudio così come l'emissario dell'Incile, ma la vicina al Bafucens insomma una città che ha tanto da raccontare ma deve riscoprirsi grazie a questi scrittori moderni, diciamo così, custodi anche della nostra memoria e cronisti del nostro presente riusciamo sicuramente a farlo meglio. In questo è, concludiamo, l'amministrazione comunale credo che debba impegnarsi un po' di più. Noi ci stiamo impegnando, anche sull'apertura dei cunicoli di Claudio stiamo lavorando perché ci sono varie amministrazioni che si interessano di quel sito c'è la Regione Abruzzo che è deputata all'apertura, c'è la soprintendenza noi come Comune stiamo provando e devo dire con buoni risultati a mettere tutti insieme su un tavolo il mio assessorato guarda molto alla cultura, quella diciamo così alta la cultura museale, la cultura fatta di mostre perché, ripeto, l'esperienza fatta in questi mesi mi insegna che ripartire dalla conoscenza di ciò che è stato ci aiuta sicuramente a programmare un futuro che è migliore perché Avezzano ha tanto, tanto da raccontarsi.